bello a tutti fourniters benvenuti e bentrovati su leon tube in questo video andiamo a vedere come fare l'incarico intanto prima vi faccio un po di scudo degli incarichi vere e maledette la parte 4 codice dei pirati 4 l'incarico accetta accetta sopravvivi alla macchia nera da davy jones quindi basta arrivare qui dall mpc davy jones parlarci e fare qui sopravvivere la macchia nera accettare e l'incarico sarà completato potete anche morire basta accettare l'incarico e la missione sarà completata quindi davvero davvero semplice se il video ragazzi è stato d'aiuto mi raccomando un bel mi piace iscrivetevi al canale e ci vediamo presto con altri video ciao a tutti grazie